Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Quindi, come diceva Molinari poco fa, grande cautela e attenzione, ma cerchiamo di capire qual è la tendenza. Perché i due pleni potenziari del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle in Sardegna se la ridono felici? Perché? È la domanda che ci dobbiamo fare. Intanto, Davide, mentre voi parlavate ci sono arrivati altri messaggi di sezioni di seggi scrutinati su Cagliari. In tutti la Todd risulta in vantaggio, ma anche parecchio in vantaggio. Voi ve lo aspettavate? Se perde a Cagliari non ci aspettavate. No, sì. Noi avevamo percepito in queste settimane che era tornato l'entusiasmo, l'euforia. Io stesso stamattina venendo qua venivo fermato dalle persone che mi chiedevano i risultati dello spoglio. Cioè, quelle che sono le vibrazioni le avevamo percepite. Che certamente eravamo riusciti, forse, nell'obiettivo principale. Quello di risvegliare le coscienze, scuoterle, riportare il dibattito politico al centro dell'attualità sarda. E ci siamo riusciti. Poi sui risultati, voi sapete il mio trascorso in Federcalcio. Siamo al primo quarto d'ora di una finale. E le finali si vincono solo quando l'arbitro fischia la fine. Quando l'arbitro fischia. Meloni, ma avete dei dati... Loro hanno dei dati in più perché hanno i rappresentanti di lista. Lo raccontiamo al pubblico che ovviamente, storicamente, diciamo così, la macchina del Partito Democratico sui rappresentanti di lista è... Non in Sardegna. ...abbastanza invece... Dici, non in Sardegna. Come ti permette di dirlo davanti a Meloni così? Scusa, ma... Mi fa hanno sbagliato clamorosamente. È un dato di cronaca. Però Meloni, invece, forse in questo caso hanno aggiustato la macchina. Meloni e poi torno subito da Molinari. E se c'è anche Salina Biraghi, la colleghiamo subito. Prego, Meloni. A parte che i rappresentanti di lista non sbagliano, registrano i voti e ce li trasmettono. Effettivamente, soprattutto a Cagliari, ma anche nell'intera area urbana di Cagliari, che di solito è una realtà un po' più difficile per noi, i dati sono molto positivi. E quindi, al di là del fatto che dobbiamo attendere, come ci insegna Lichieri, il novantesimo, certamente possiamo dire che la città di Cagliari ha dato un giudizio definitivo sul suo sindaco ed è un giudizio molto, molto negativo. E già questo per noi è un fatto rilevante. Poi, voi dicevate una cosa che è importante. Questa è una campagna che qua abbiamo fatto e i sardi hanno fatto per la Sardegna. Però, evidentemente, sono venuti i tre leader del centro-destra, guidati dalla Presidente del Consiglio. Sulle strade noi abbiamo visto affissi i manifesti di Giorgia Meloni e se i dati fossero confermati, il giudizio su questo governo, che sta facendo molto male, ha fatto malissimo per la Sardegna, da quando è nato fino ad ora, è ugualmente molto, molto duro e molto netto. Quindi è un risultato anche nazionale. Anche se Schlein aveva detto che non sarà un risultato nazionale. Ma qua noi abbiamo votato per la Sardegna. Però io ho sentito poco fa un amico che mi ha detto che i suoi suoceri, che votano normalmente a destra, dopo aver visto manganerare gli studenti a Pisa, hanno deciso di votare per noi. perché c'è una coscienza civile che in Sardegna è molto sviluppata... Ah, attenzione, quindi lei dice... ...certi arbitri... Questo è un elemento di discussione interessante.